Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Kate Middleton e il principe William stanno affrontando un periodo particolarmente difficile cercando di mantenere la massima riservatezza sulla condizione di salute della principessa del Galles. Nonostante il desiderio pubblico di aggiornamenti, poche informazioni sono state rivelate, lasciando i cittadini inglesi in uno stato di crescente ansia e attesa di notizie positive. Amia Arrieta, la stilista che disegna gli abiti per i piccoli George, Charlotte e Louis, ha infranto e silenzio, dipingendo un quadro piuttosto cupo della situazione. In una rara dichiarazione al Telegraf, la stilista spagnola, considerata una confidente della famiglia reale, ha descritto la vita di William e Kate come un inferno, principalmente a causa della lotta di Kate contro il cancro. Questa battaglia è diventata nota solo dopo che Kate ha subito un intervento chirurgico all'addome, che inizialmente aveva lasciato gli esperti perplessi sulla sua causa, fino a quando ulteriori esami non hanno confermato la presenza di un tumore. La speranza di Arrieta è che la coppia possa presto fare ritorno alla vita pubblica, sebbene le sue parole non trasmettessero un forte ottimismo. Da parte loro, William e Kate hanno chiesto implicitamente riservatezza, pur cercando di rassicurare il pubblico. «Stiamo bene, le cose vanno bene», ha affermato il principe William durante la sua ultima uscita pubblica, cercando di offrire una nota di tranquillità nonostante le circostanze. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.